Se io ho una ferita pesa, perché me la metti in casa? Se non me la dai in mano, ma perché non mi la dai? Non ce la faccio più da dolore. Se è piacere la piacere di stare. Ho un dolore che non ti immagino. Vedi che sto tenendo tutto da dolore, lasciami stare. Ma non ti ricordo. Qua siamo in Italia, forse non hai capito. Se no ti torni al tuo cazzo di paese. Va bene. Siamo in Italia qua. Noi siamo in Italia, presto voi, cross le valigie. E' l'Europa del cazzo. E' l'Europa a noi non interessa. L'Europa di cose, gente come te? L'Europa è una nuova civile. Con voi siamo sotto il livello. Le case che avete qua le abbiamo costruite. Ma vada al cagare il cazzo, per cammino. E' il cazzo. Non cagare il cazzo. Senti che lo vanno, eh. In fancia, la tua, tutta la razza tua. Non cagare il cazzo. Non cagare il cazzo. Non cagare il cazzo. Meti che non cagare il cazzo. 來 puedo ipostruire. Guardate il cazzo in Italia qua. Lo Non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare cosa, non mi toccare che io e te stiamo subito, mi stai? Mi stai? Hai capito? Passami in un luogo pubblico, è un po' di più, è un po' di più, si stai? No! Oh! Chi m'ha detto? Oh! Chiamate la polizia! Chiamate la polizia subito, Marco! Perché viene qua? 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 Perché mi sta buttato qua? E perché non volare, non è andato via?